Siamo a DISE 2019, noi di Chemcom, società distributore a valore aggiunto di Philips, qui ospite nello stand Philips per presentare la nuova piattaforma di Digital Signage. Il software che presentiamo quest'anno si chiama K-Signage, K-Signage è un gestore di contenuti, è un software che gestisce i contenuti e consente di aggiornare video, foto e anche news, meteo e soprattutto pagine internet e social media, rispondendo perfettamente alle richieste del marketing. È un'applicazione semplice e veloce, soprattutto indicata nel mondo retail, dove c'è una costante necessità di aggiornare i contenuti all'interno dei monitor e delle superfici all'interno del negozio. Per maggiori informazioni contattateci o visitate il sito K-Signage.com